prima di iniziare farò una piccola preghiera fare ti ringraziamo ancora per questo momento riempici di te e del tuo spirito santo di cui abbiamo tanto bisogno per ascoltare e capire la tua perfetta volontà in Gesù Cristo ti abbiamo pregato a me ok, facciamo il nostro studio come lo sapete inizieremo subito perché per guadagnare anche in tempo allora condivido il mio schermo con voi ok quindi come lo sapete come avete visto sulla locandina come avete visto sul fly ho visto sul flyer il titolo del nostro studio di oggi è il santuario, l'espiazione e la riconciliazione espiazione e riconciliazione quale è il rapporto fra le due parole e quale è il rapporto fra le due parole e il santuario è quello che andremo a vedere insieme attraverso la scrittura attraverso lo spirito di profezia perché sapete che se vogliamo capire la vera perfetta volontà di Dio dobbiamo andare nel santuario e noi abbiamo ricevuto il santuario come avventisti del settimo giorno come identità per particolare e per quello che noi tutti dovremmo conoscere il santuario se vogliamo avere una verità la verità per quanto riguarda l'alimentazione la verità per quanto riguarda il matrimonio la verità per quanto riguarda il sacerdozio femminile per quanto riguarda ogni tipo di argomento fratelli andiamo sempre nel santuario la musica andiamo nel santuario e per quello che oggi come aspettiamo di vedere un po' qual è il piano della redenzione per quanto riguarda l'espiazione e la riconciliazione prima di iniziare andremo a leggeremo qualche leggeremo insieme qualche citazione dello spirito di profezia leggiamo insieme nel gran conflitto il santuario è il vero centro dell'opera di Dio per gli uomini interessa a tutti gli abitanti della terra ci espone al piano di redenzione ci porta alla fine dei tempi e ci rivela la questione trionfale del conflitto tra la giustizia e il peccato è quindi importante che tutti lo studino a fondo e siano in grado di dare ragione della speranza che è in lui quindi notiamo bene che lo spirito di profezia dice che il santuario ti espone al piano di redenzione quindi se voglio capire il piano della redenzione devo andare nel santuario perché redenzione è per riportarci al piano originale se voglio capire come abbiamo detto per ogni tipo di aggormento come Dio ci vuole riportare al piano originale vado nel santuario è quindi importante dice lei che tutti lo studino a fondo e siano in grado di dare ragione della speranza che è in noi e leggiamo ancora questa affermazione che dice il vero centro dell'opera di Dio il popolo di Dio dovrebbe comprendere a fondo l'argomento del santuario e del giudizio tutti dovrebbero essere consapevoli della posizione e dell'opera del nostro somo sacerdote senza questa conoscenza non è possibile esercitare la fede essenziale in questo tempo né occupare la posizione che Dio ci ha segnato tutti hanno un'anima da salvare o perdere ok il popolo di Dio dovrebbe comprendere a fondo l'argomento del santuario e del giudizio senza questa conoscenza è impossibile oppure non è possibile esercitare la fede essenziale quindi lo scopo di questo studio è per fare in modo che noi possiamo essere in grado di poter esercitare la fede essenziale necessaria per questo tempo in cui ci troviamo e sappiamo bene come dice nel salmo 77 versetto 14 oh Dio le tue vie si vedono nel santuario le tue vie vie cosa significa via? è la parola in ebraico che significa viaggio cammino viaggio quindi se voglio capire la perfetta volontà di Dio come abbiamo detto vado sempre nel santuario e sappiamo come era costituito il santuario c'era il luogo santo il cortile il luogo santo il luogo santissimo ma c'è una cosa è che il messaggio che vorremmo predicare oggi dove si trova? si trova nel luogo santissimo perché nel luogo santissimo? perché il messaggio che si trova nel luogo santissimo è in rapporto con la verità presente ultimamente abbiamo finito di fare la serie sull'ordinamento l'ordinazione delle donne il sacerdozio femminile e abbiamo concluso nella terza parte con la verità presente cosa rappresenta il sacerdozio? nel luogo santissimo è la verga d'Aroni e con queste cose quando andiamo già nel luogo santissimo abbiamo la conclusione e tutti quanti smettono di parlare ma avete notato che non si parla più del santuario ci sono anche quelli che dicono no, il santuario non esiste veramente tutte queste voci per fare in modo che noi ci possiamo allontanare dal GPS che Dio ci ha dato per allontanare ogni erizia detto questo dopo questa introduzione andiamo nello studio in sé e per questo introdurremo il nostro studio con Esodo capitolo 25 versetto 8 perché Dio vorrebbe abitare in mezzo a loro in mezzo a noi per quale motivo? notiamo che lo spirito profezia ha detto abbiamo letto il santuario ci rivela il piano della redenzione da cosa dobbiamo essere riscattati? da cosa? e poi il titolo ricordatevi è espiazione e riconciliazione quando si parla di espiazione poi vediamo insieme ci sono parole che vanno con l'espiazione i sinonimi espiazione pulizia pagare il debito tutte queste parole ci fanno capire che se il santuario ci rivela il piano della redenzione è che Dio dice in Esodo capitolo 25 versetto 8 di voler vivere in mezzo a loro in mezzo a noi è per dire che Dio questo significa che Dio vuole risolvere un problema che c'è stato ma dove nasce questo problema? sappiamo che in Genesi capitolo 3 ricordiamo e non lo leggeremo insieme per ricordarci dell'episodio c'è Adamo che pecca e Dio si avvicina e chiede dove sei? lui si nasconde perché si nasconde? perché ha avuto paura si è reso conto che era nudo ma perché si è reso conto che era nudo? perché si è creato una separazione fra lui e il suo Dio e in Isaia capitolo 59 versetto 2 è scritto ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio quindi Adamo si nasconde perché c'è stata una separazione fra lui e Dio e noi abbiamo ereditato di questo e il piano della redenzione fratelli e il titolo del nostro studio è espiazione e riconciliazione noteremo che dal momento in cui Adamo pecca lo scopo di Dio è di far riportare Adamo nel piano originale tramite il piano della redenzione come fare per poter riportare Adamo e noi in modo che Adamo e noi con Dio siamo uno ricordiamoci della preghia sacerdotale di Gesù Cristo in Giovanni 17 lui prega al padre che tutti siano uno come noi siamo uno che tutti siano uno quindi questo è il sogno che Dio ha e lui fa il suo santore per vivere in mezzo al suo popolo perché lui vuole che il suo popolo sia uno con lui vedremo adesso attraverso gli utensili del santuario che Dio attraverso questi utensili cerca sempre cercherà sempre di trovare quest'unione che abbiamo perso in Eden e poi capiremo bene quando arriveremo nel luogo santissimo con la parola espiazione capiremo meglio questa parola e quale proposito che Dio ha allora adesso andiamo a parlare di utensili che si trovano nel santuario il teatro del nostro studio è espiazione e riconciliazione perché dobbiamo parlare di riconciliazione vedremo insieme nei passaggi biblici andiamo nell'utensile che sappiamo già immagino abbiamo l'altare dei sacrifici la conca di rame la tavola dei panni di presentazione l'altare dei profumi il candelabro d'oro e l'arca dell'alianza qual è il rapporto fra espiazione riconciliazione e tutti questi utensili perché il piano di redenzione è per poter riportarci al piano originale ma Dio non ci può portare al piano originale senza risolvere la questione del peccato perché è il peccato che mette la separazione fra lui e noi come Dio procederà per poter creare questa unione perfetta che c'era prima andiamo nel primo tensilo che troviamo troviamo che è l'altare dei sacrifici come si trova questo come vede la perfetta volontà di Dio in questo per quanto riguarda il nostro argomento di oggi andiamo insieme per questo andremo a leggere insieme Colossesi 1 versetti da 17 a 20 egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui egli è il capo del corpo cioè della chiesa egli che è il principio il primo genito dai morti affinché in ogni cosa abbia il primato poiché al padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli poiché al padre piacque di far abitare in lui la pienezza e di riconciliare il titolo della nostra meditazione il nostro studio è riconciliazione e spiazione e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui di Gesù avendo fatto la pace mediante il sangue della croce quindi l'altare dei sacrifici ci permette di poter essere uno riconciliarci di nuovo con Dio perché c'è stata una separazione fra noi e il nostro Dio perché l'altare dei sacrifici non solo Gesù Cristo muore ma anche noi dobbiamo morire a noi stessi perché è scritto in Romani capitolo 6 versetto 6 a 7 sapendo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Gesù Paolo dice questo sapendo che quando vede Gesù alla croce riconosce che Gesù lo rappresenta nella sua umanità umana come lui con le sue con le sue tendenze quindi lui dice riconoscendo che noi siamo stati crocifissi con lui affinché affinché possiamo vivere di nuovo e al versetto 7 lui dice per parafrasare poi al versetto 7 lui dice chi è morto è libero per poter essere per parafrasare quindi chi è veramente libero è chi sarà morto al peccato e questo all'altare dei sacrifici quindi noi stessi per poter essere uno con Dio dobbiamo morire anche noi in Cristo e per quanto riguarda la conca di rame sempre in rapporto con il nostro sempre in rapporto con la nostra con il titolo della nostra meditazione del nostro studio espiazione e riconciliazione per questo andiamo insieme in Romani capitolo 6 Romani capitolo 6 leggiamo i versetti da 3 a 5 o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo della sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua perché se siamo stati totalmente uniti a lui nella morte quindi il battesimo rappresenta la nostra morte per poter essere uniti a lui il titolo della nostra meditazione il nostro studio è espiazione e riconciliazione c'è sempre questa idea abbiamo letto in Colossesi capitolo 1 che alla croce che rappresenta l'altare dei sacrifici noi Gesù ha voluto riconciliarci con Dio tramite il suo sangue e come abbiamo detto che è scritto in Romani capitolo 6 versetto 6 sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più il peccato perché solo il peccato mette la separazione fra noi e Dio e se non serviamo più il peccato saremo uno ci riconcilieremo con Dio per quanto riguarda l'altare la conca di rame perché se siamo stati seppolti totalmente uniti a lui nel battesimo perché ricordate il battesimo il battezzo in greco è immergere vedete quando si fa il battesimo si mette l'uomo tutto nella vasca perché questo rappresenta la morte e la rinascita quando l'uomo va nella vasca e poi risuscita quindi questo è il pensiero non quello per aspersione come fa il papato oppure non so perché mettono qualche goccia no non ha niente di biblico e questo vediamo bene che tutto questo per essere totalmente uniti a Cristo quindi abbiamo visto la riconciliazione il piano di Dio per poter riconciliarci con riconciliarsi con noi attraverso l'altare dei sacrifici e la conca di Rami adesso andiamo a vedere entriamo nel luogo adesso entriamo nel luogo santo e vediamo altri utensili che si trovano nel luogo santo cosa abbiamo nel luogo santo nel luogo santo abbiamo il candelabro d'oro l'altare dei profumi è la tavola dei panni vediamo se lo stesso messaggio si trova in questi utensili per questo andremo insieme a parlare del la tavola dei panni di presentazione cosa rappresenta la tavola dei panni di presentazione rappresenta della parola di Dio e come Dio esprime questo piano della salvezza della redenzione la riconciliazione con lui attraverso la tavola dei panni di presentazione leggiamo insieme Giovanni capitolo 6 versetti da 52 a 56 i giudei dunque discutevano tra di loro dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne perciò Gesù disse loro in verità in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete vita in voi chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui vedete bene il concetto lo stesso lui parla di mangiare la sua carne e di bere il suo sangue versetto 56 chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui chi mangia la mia carne cosa significa mangiare la carne di Gesù Cristo è studiare la parola perché se mangio la carne ogni giorno se mangio la parola ogni giorno io dimoro in lui e lui in me ricordiamoci in Giovanni capitolo 15 quando lui dice io sono lui dice chi se la mia parola dimora in voi e io in voi chiedete qualunque cosa volete voi lo tenerete quando lui dice la sua parola dimora in noi lui parla anche della sua parola e di lui perché lui è la parola quindi se Gesù Cristo è la parola che se dimora in noi allora diventiamo uno con lui sempre di principio il concetto di riconciliazione che Dio vuole che Dio vuole realizzare attraverso questo utensilio che si trova nel luogo santo che è la tavola dei panni di presentazione il titolo del nostro studio è espiazione e riconciliazione andiamo all'altro andiamo a vedere l'altro utensile che si trova utensile che si trova nel luogo santo che è l'altare dei l'altare dei profumi abbiamo visto nel luogo santo nel cortile il stesso concetto per quale motivo per fare uno che noi diventassimo uno ancora con Dio come Dio lo esprime attraverso l'altare dei profumi andiamo a leggere insieme Esodo capitolo 30 versetti 1 e 9 a 10 farai pure un altare per bruciarvi sopra il profumo lo farai di legno da caccia non offrirete su di esso incenso profano né olocausto né oblazione e non vi farete libazioni una volta all'anno Arone farà l'espiazione sui corni di esso con il sangue del sacrificio di estiazione per il peccato vi farà sopra l'espiazione una volta all'anno di generazione in generazione sarà cosa santissima sacra al signore come troviamo quel stesso concetto per quanto riguarda l'altare del profumo una volta all'anno Arone farà l'espiazione sui corni di esso l'espiazione il titolo del nostro studio è espiazione e riconciliazione con il sangue del sacrificio di espiazione per il peccato vi farà sopra l'espiazione una volta all'anno di generazione in generazione quindi il sommo sacerdote doveva fare questa espiazione e cosa significa la parola espiazione in parole povere possiamo vedere i sinonimi della parola espiazione riparazione risarcimento riscatto purificazione redenzione e notiamo bene abbiamo visto come ha detto lo spirito e profezia il santuario ci rivela il piano della redenzione quindi il santuario ha per scopo redirmerci da cosa questa è la domanda abbiamo visto chiaramente che l'uomo si è separato da Dio ridimerci dal peccato come risolvere la questione del peccato attraverso questi utensili vediamo bene che il concetto di Dio è lo stesso già dice voi mi farete un santuario e abiterò in mezzo a voi come si realizza anche questa parola ricordiamoci Gesù Cristo in Giovanni capitolo 1 no in Giovanni capitolo 2 quando gli dice distruggete questo tempio lo riscostruirò in tre giorni e poi Giovanni dirà lui parlava del suo corpo in Giovanni capitolo 1 versetto 14 la parola si è fatta carne e abitato in mezzo a noi è lo stesso concetto mi farete un santuario e abiterò in mezzo a voi Gesù Cristo si fa carne e abita in mezzo a noi perché Gesù Cristo in Matteo capitolo 1 versetto 21 a 23 è Dio con noi per fare cosa? per salvare il suo popolo dai loro peccati quindi il concetto è lo stesso riparazione penitenza risarcimento riscatto purificazione redenzione sono le parole che sono sinonimi della parola espiazione pagamento del debito e parole contrarie ci sono anche impurità separazione quindi notiamo bene che Dio ha lo stesso proposito abbiamo visto già in questi tutti questi utensili quale è il proposito di Dio andremo poi a vedere un altro utensile che è il candelabro d'oro il candelabro d'oro vediamo se lo stesso concetto è espresso nel candelabro d'oro prima Giovanni capitolo 1 versetto da 5 a 7 questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunciamo Dio è luce e in lui non ci sono tenebre se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità ma se camminiamo nella luce come egli è la luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato ma se camminiamo nella luce come lì è nella luce abbiamo comunione perché il candelabro cosa rappresenta? La luce nel luogo santo solo il candelabro dava la luce per illuminare tutto il luogo santo nel senso che il candelabro che rappresenta la luce il candelabro che è lo spirito santo è importantissimo per poter spiegare e studiare la parola di Dio che è rappresentata dalla tavola dei panni di presentazione non posso capire la parola di Dio se non ho l'influenza se non sono influenzato dallo spirito santo guidato dallo spirito santo non posso neanche pregare la preghiera rappresentata dalla tavola dei profumi non posso neanche pregare se non sono ispirato dallo spirito santo perché ricordatevi in Romani capitolo 8 versetto 24 se mi ricordo ancora bene è scritto voi non sapete pregare ma lo spirito santo porta le vostre preghiere sparafrazo porta le vostre preghiere al pari con sospiri ineffabili perché voi non sapete pregare la candelabra rappresenta la luce Gesù è il Dio è la luce Gesù è la luce del mondo ma lui dice anche voi siete la luce del mondo ma se camminiamo nella luce come è nella luce abbiamo comunione vediamo bene la comunione la riconciliazione con lui per quale motivo per diventare uno con Dio perché Adamo si è separato da da Dio e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato ok abbiamo visto che la parola espiazione ha anche come sinonimo la parola purificazione ridenzione cancellazione quindi vediamo che perché la parola perché il sangue di Cristo mi possa purificare ci devo credere per fede è importantissima questa parte ci devo credere per fede perché abbiamo l'abitudine di dire no che quando siamo batteggiati Dio ci ha perdonato tutti i nostri peccati sì e ha cancellato anche tutti i nostri peccati o no abbiamo l'abitudine di dire questo ma se abbiamo il santuario ci esprimeremo un altro modo e capiremo perché ci arriviamo andiamo adesso a un altro utensile che si trova nel luogo santissimo che è l'arca dell'allianza vediamo se il stesso concetto è espresso qua perché Dio vuole ricreare l'uomo la sua immagine e nel luogo santissimo cosa c'è il propiziatorio cosa rappresenta il propiziatorio quella quel coperchio che vedete quel coperchio rappresenta il trono della grazia di Dio ricordiamoci quando come scritto in ebrei capitolo 4 versetto 15 cosa è scritto cito con voi potete cercare anche nelle vostre bibbie non abbiamo un sumo sacerdote che non possa simpatizzare con noi ma è stato tentato in ogni cosa come noi senza pecare ma avviciniamoci dal trono della della sua grazia perché siamo nel tempo di grazia aspettando il tempo di gloria che arriverà ma vediamo se lo stesso concetto è espresso anche nella grazia leggiamo tito capitolo 2 versetti 11 a 14 infatti la grazia di dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'empietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente giustamente e in modo santo aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande dio e salvatore gesù cristo egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zellante nelle buone opere egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da cosa da ogni iniquità cosa è l'iniquità è il peccato e purificarci ritorniamo a questa parola di espiazione che era anche un sinonimo di espiazione purificarsi un popolo cos'è la grazia infatti la grazia di dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata la grazia di dio non si può manifestare se non c'è peccato quindi non si può parlare di grazia se prima non c'è stata una trasgressione della legge quando si dice se un presidente dice io faccio fatto grazia a questo prigioniero è perché quel prigioniero prima aveva trasgredito la legge dello stato quindi la grazia si è manifestata perché prima non si poteva parlare di grazia finché Adamo non aveva non avesse trasgredito la legge di dio la legge di dio la grazia si è manifestata questa grazia che esisteva già in cristo prima dai tempi remoti come scritto in prima timotio 1 versetto 9 secondo timotio 1 versetto 9 quindi questa grazia si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà all'iniquità al peccato cosa è il peccato alla trasgressione della legge di dio quindi vediamo bene che questo trono della grazia il propiziatorio ci invita a rinunciare a quello che si separa da dio per quale motivo per creare unità con dio vediamo bene che lo stesso concetto già dalla porta partendo dalla porta all'altare dei sacrifici alla conca di rame alla tavola dei pani all'altare dei profumi al candelabro è lo stesso concetto perché dio vuole risolvere la questione del peccato quindi fratelli se parliamo del santuario non parliamo del peccato noi abbiamo raggiunto l'obiettivo e perché non si parla del santuario adesso perché ci si insegna si insegna che non si può vivere senza pecare motivo per cui il santuario non ci serve capito perché il santuario elimina ogni erizia ma il nemico cosa vuole eliminiamo il santuario diciamo che il santuario non esiste allora così la gente sarà aperta a ogni vento di dottrina quindi intorno della grazia la grazia di dio ci ci invita a rinunciare al peccato e possiamo leggere anche in ebrei capitolo 9 leggiamo in ebrei capitolo 9 versetti da 6 a 7 questa dunque è la disposizione dei locali i sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una volta all'anno non senza sangue che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo quindi ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta l'anno qua adesso siamo nel luogo santissimo in rapporto con la verità presente che dobbiamo predicare al popolo dobbiamo capire cosa succede lì allora se no saremo un popolo diciamo adventisti ma senza avere la nostra senza capire il nostro messaggio diciamo sì abbiamo l'utensile abbiamo questo e il messaggio è finito no quindi il sommo sacerdote entrava una volta all'anno nel luogo santissimo per quale motivo non senza sangue che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo per quale motivo per l'espiazione perché quando andiamo in levitico capitolo 16 leggiamo i versetti 14 a 16 poi prenderà del sangue del toro aspergerà col dito il propiziatorio verso oriente e farà sette asperzioni del sangue col dito davanti al propiziatorio poi sgozzerà il capro del sacrificio per il peccato che è il popolo e ne porterà il sangue di là dalla cortina farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro ne farà l'aspersione sul propiziatorio davanti e davanti al propiziatorio così farà l'espiazione per il santuario a causa delle impurità dei figli di Israele delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati lo stesso farà per la tenda di convegno che è tra di loro in mezzo alle loro impurità ne porterà il sangue di là della cortina quindi nel luogo santissimo così farà l'espiazione per il santuario il titolo del nostro studio è espiazione e riconciliazione a causa delle impurità quindi l'espiazione è fatta a causa dell'impurità a causa del peccato e l'impurità è la contrapposizione diciamo che è l'opposto dell'espiazione impurità dei figli di Israele delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati come abbiamo detto prima accennato prima a volte diciamo che i nostri peccati sono stati perdonati alla croce sì o no sì è vero e a volte anche diciamo che i nostri peccati sono stati cancellati alla croce sì o no sì è vero o non è vero non può essere vero sapete perché i nostri peccati non possono essere cancellati alla croce perché sono quelli che dicono l'espiazione finisce alla croce e per quello non vanno fino nel luogo santissimo loro dicono no l'espiazione finisce alla croce no come capire questo il perdono è la cancellazione dei nostri peccati capite che se non abbiamo il santuario potremmo fare dei discorsi che non finiranno mai quando è così semplice per capire questo andiamo a leggere qualche versetto insieme prima andiamo a leggere in prima Giovanni capitolo 1 leggiamo i versetti 9 a 10 se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi se confessiamo i nostri peccati quindi quando andiamo all'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e che confessiamo i nostri peccati egli è fedele per perdonarci i peccati sì o no? sì e purificarci da ogni iniquità ok perché siamo purificati perché Gesù Cristo la nostra giustizia che si presenta che noi presentiamo come la nostra giustizia davanti al Padre e Dio guarda alla giustizia alla giustizia di Cristo non guarda a noi perché Gesù Cristo è nostra giustizia quindi la sua purità è imputata a noi quindi la sua purità è imputata purezza volevo dire è imputata a noi e ma i nostri peccati sono forse cancellati andiamo a leggere in Salmo Salmi capitolo 85 versetti da 1 a 2 O Signore Tu sei stato propizio alla tua terra hai ricondotto Giacobbe dalla deportazione hai perdonato l'iniquità del tuo popolo hai cancellato tutti i suoi peccati O Signore Tu sei stato proprio propizio alla tua terra hai ricondotto Giacobbe dalla deportazione hai perdonato l'iniquità del tuo popolo hai cancellato i suoi peccati questo è per fede che noi abbiamo i peccati quando diciamo che i nostri peccati sono cancellati è perché Dio non si ricorda più quando Dio dice io butto i vostri peccati fino a fondo al mare e non mi ricorderò più vi do un esempio ricordatevi di Adamo Abramo cosa ha combinato Abramo quando dico combinato nel senso non di non di non è nel senso di innalzare la carne perché a volte la gente dice avete visto Abramo ha combinato anche questo ha combinato quindi non possiamo avere la vittoria sul peccato non è nel senso lì perché dobbiamo innalzare lo spirito e non la carne perché Gesù è venuto a far vedere che lo spirito è superiore alla carne la legge dello spirito prendiamo l'esempio di Abramo Abramo è andato ha avuto un figlio con Aga non era la volontà di Dio ma sapete che per questo atto fino ad oggi abbiamo la guerra in Palestina e così via a causa di questo errore ma se andiamo nel libro degli ebrei non vediamo Abramo è giusto davanti a Dio perché Dio quando si ti perdona il peccato lui si scorda proprio non è che dirà ma Abramo ti ricordi che avevi fatto questo non è come un uomo che dice io dimentico no ti perdono ma non dimentico no Dio non è così mi perdona e dimentica è solo Satana che fa che ci fa ricordare quello che eravamo prima così in modo che noi possiamo avere senso di colpa e poter essere separati da Dio ma vediamo bene che Abramo ha commesso un errore ma Dio dopo che si è pentito Dio in Dio lui è campione della fede Dio non si ricorda perché per fede i suoi peccati sono stati cancellati ma in realtà i peccati dove vanno vediamo cosa dice Davide in Romani non è ebrei capitolo 9 mi sono sbagliato ebrei capitolo 4 versetti da 6 a 7 così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere dicendo beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il Signore non ha debita affatto il peccato beati quelli le cui iniquità sono perdonate lui cita il Salmo 85 versetti 1 a 2 1 beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i suoi peccati coperti i peccati sono da qualche parte perché quando confessiamo i nostri peccati sono perdonati per fede sono già cancellati in Cristo pensiamo Dio ci cancella i peccati perché lui si scorda proprio ma i nostri peccati dove vanno in cielo nel santuario celeste 2300 sere mattini poi il santuario sarà purificato perché i nostri peccati vanno da qualche parte i nostri peccati devono andare da qualche parte per quello capiremo perché adesso l'espiazione perché se non capiamo che i peccati a un certo momento verranno cancellati alla fine del tempo di espiazione allora corriamo il rischio di pensare e di predicare una cosa che non è biblica Dio abbiamo visto attraverso tutti questi utensili che il progetto di Dio è lo stesso di fare che l'uomo sia uno con Dio ma Satana non vuole questo e quando leggiamo in Apocalisse capitolo 12 è scritto versetto 7 ci fu una battaglia nel cielo ci fu una guerra nel cielo la guerra è il contrario è l'opposto della riconciliazione quindi Lucifero viene è arrivato con la battaglia con la guerra con l'emos perché l'uomo per creare questa inimicizia fra l'uomo e Dio e come Dio in modo pratico lo fa quando andiamo nel santuario abbiamo visto abbiamo letto Levitico 16 versetti 14 a 16 prima e adesso leggiamo Levitico 16 versetti da 7 a 9 poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno e getterà le sorti sui due capri un capro destinato al Signore e l'altro a Dazazel Arone farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà in sacrificio per il peccato invece il capro che è toccato in sorte a Dazazel sarà posto vivo davanti al Signore perché si compia il rito espiatorio su di esso e sia mandato poi ad Azazel nel deserto quindi durante il tempo di espiazione durante il tempo di Yom Kippur il tempo della purificazione questo era c'erano due capri in cui c'era c'era un tiraggio tiraggio si dice tiraggio a sorte ok quindi vediamo bene che uno quello che va nel deserto poi è abbandonato nel deserto perché lui deve prendere su di lui i peccati di tutto il popolo e questo capo di situatore rappresenta Satana che alla fine su di lui sarà posto tutti i nostri peccati e lui pagherà perché lui è l'autore è l'autore del male vediamo cosa ne dice lo spirito profezia viviamo al tempo del grande giorno dell'espiazione nel culto mosaico mentre il sumo sacerdote faceva l'espiazione per Israele dovevano pentirsi dei suoi peccati e umiliarsi dinanzi al Signore pena la separazione dal suo popolo ora anche durante i pochi giorni di grazia che rimangono tutti coloro che vogliono che il loro nome sia tenuto nel libro della vita devono affliggere le loro anime davanti a Dio provare un vero dolore per i loro peccati e mostrare una sincera conversione è necessario in un buon numero di coloro che affermano di essere discepoli di Cristo che la leggerezza e la frivolezza spariscano al prezzo di una guerra seria si sarà in grado di superare le sue cattive tendenze e vincere la vittoria perché questo lavoro di preparazione è una cosa individuale non siamo salvati dal gruppo la purezza e la consacrazione di uno non possono compensare la mancanza di quelle qualità in un altro sebbene tutte le nazioni debbano essere giudicate Dio esaminerà il caso di ciascun individuo con la stessa attenzione che avrebbe se fosse solo sulla terra viviamo al tempo del grande giorno dell'espiazione cosa faceva il popolo durante il tempo di espiazione come dice lo spirito della profezia devono affliggere le loro anime davanti a Dio loro affliggevano le loro anime davanti a Dio loro confessavano i loro peccati davanti a Dio e davanti a l'agnello per fede e per quello che in Gioele capitolo 2 è scritto suonate la tromba a Sion proclamate un digiuno convocate una solenne assemblea adunate il popolo santificate l'assemblea adunate i vecchi i bambini e quelli che popano ancora esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale Gesù Cristo ha iniziato il suo ministero purificando il santuario all'inizio del suo ministero Gesù Cristo ha iniziato purificando il santuario perché questo aveva un messaggio forte per noi era un messaggio fortissimo e possiamo leggere negli ultimi giorni leggiamo insieme cosa dice lo spirito di profezia al riguardo l'amore di Dio per la sua chiesa è infinito prende le sue cure incessantemente non permette a nessuna afflizione di raggiungere la sua chiesa se non per purificarla e assicurarla del suo bene presente ed eterno purificherà la sua chiesa nello stesso modo in cui ha purificato il tempio all'inizio e alla fine del suo ministero sulla terra le prove e i giudizi che egli dà alla sua chiesa hanno lo scopo di consentirgli di acquisire una pietà più profonda e una maggiore forza per far conoscere al mondo intero il trionfo della croce se non per purificarla purificherà la sua chiesa nello stesso modo in cui ha purificato il tempio all'inizio e alla fine del suo ministero sulla terra il titolo del nostro studio è espiazione e purificazione da cosa dobbiamo essere purificati perché dobbiamo essere purificati dal peccato e il peccato è la cosa unica che mette la separazione fra noi è Dio e abbiamo visto che il capo espiattore prenderà su di lui tutte queste colpe e Gesù Cristo nel santuario c'era bisogno dell'agnello di un agnello perfetto di un sacerdote perfetto e nel suo ministero inizia nel luogo nel cortile come agnello va nel luogo santo come intercessore nel luogo santissimo come giudici e quello che vuole fare noi perché 2300 serie mattina il santuario sarà purificato poi il santuario verrà purificato è in rapporto con noi stessi Dio ci vuole purificare quello che si faceva nel santuario terrestre è quello che vuole fare realizzare in noi possiamo vedere le tappe qua per eliminare il peccato il peccatore arrivava con l'agnello poi il peccato e il peccatore l'agnello era sgozzato si prendeva il sangue il sacerdote entrava nel luogo santo spruzzava sulla cortile ma una volta all'anno il sommo sacerdote entrava e usciva dal luogo santissimo e confessava tirava a sorte i due capri e sacrificava l'agnello no il capro per il sacrificio per il popolo ma sul capo il spiatore era messo tutto tutti i peccati del popolo è quello che Dio vuole fare in noi e come capire questa purificazione attraverso la lavatrice attraverso il bucato abbiamo tutti a casa una lavatrice no una lavatrice per pulire ogni giorno possiamo lavare i vestiti cosa alla mano quando non sono tanti laviamo forse la mano oppure li mettiamo da parte ma c'è un giorno alla settimana dipende di come ognuno si organizza forse due giorni alla settimana ma di solito c'è un giorno principale alla settimana in cui si fa il bucato di tutto e si purifica tutto quello che c'è di sporco nella casa come nel santuario terrestre ogni giorno la gente veniva a confessare i suoi peccati ma c'era un giorno all'anno in cui tutti i peccati erano tolti dal santuario per poter essere messi sul capo espiatore e così avverrà alla fine le tempi noi confessiamo i nostri peccati sull'agnello ogni giorno ma Dio prenderà quei peccati li metterà sul capo espiatore sul capo espiatore volevo dire la stessa cosa questa è l'illustrazione ogni giorno abbiamo l'immondizia a casa no? mettiamo abbiamo come vedete qua la vostra sinistra ogni giorno mettiamo raccogliamo l'immondizia ogni giorno ogni giorno però comunque c'è un giorno la settimana in cui passano quelli che devono raccogliere tutto e così anche così sarà alla fine dei tempi tutti i peccati saranno messi sul capo espiatore perché dove è satana dove è il peccato non c'è purezza quando il peccato sarà eliminato ci sarà la purezza ci sarà la purificazione e possiamo concludere con lo spirito profezia qua cosa dice in questo in questa dichiarazione citazione la polemica la polemica è finita il peccato e i peccatori non ci sono più l'universo è purificato nell'immensa creazione tutti i cuori sperimentano la stessa gioia onde di vita luce e gioia scaturiscono dal trono del creatore invadono gli ultimi recessi dello spazio infinito dall'atomo più impercettibile ai mondi più vasti sia gli esseri animati che gli oggetti inanimati sorgono per via della loro incomparabile bellezza e gioia non mescolata un canto di allegrezza concludiamo anche con questo qua eccoci nel grande gioio del giorno dell'espiazione quando i nostri peccati devono venire in giudizio oggi Dio non può accettare dai suoi servi una testimonianza spenta e senza vita tale testimonianza non sarebbe la verità presente il messaggio attuale è quello di essere il cibo adatto cibo della stagione per nutrire la chiesa di Dio ma Satana ha cercato di svuotare questo messaggio dalla sua sostanza in modo che il popolo di Dio non potesse sostenere il giorno del Signore ricordiamo in Apocalisse capitolo 6 l'ultimo versetto chi potrà stare in piedi davanti all'ira dell'agnello solo chi avrà confessato i suoi peccati solo chi sarà purificato solo chi avrà camminato secondo la parola di Dio secondo l'ubidienza ai comandamenti e tutti i comandamenti di Dio cioè chi avrà avuto la vittoria sul suo peccato che Dio ci benedica ci purifica in Gesù Cristo e ci dia il suo spirito in modo che le sue promesse si possano addentire in noi in Gesù Cristo il nostro unico salvatore Amen 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 Allora farò una preghiera di conclusione Padre ti ringraziamo ancora per questo momento per questo soggetto che ci hai dato grazie per il piano d'amore che hai per noi per poter purificarci perché sappiamo che quello che fai in cielo Padre lo vuoi anche fare in noi nelle nostre vite perché noi anche noi siamo il santore il tempio di Dio che sul tuo nome si è glorificato ancora che niente in noi ti possa impedire di realizzare quello che hai previsto che solo il tuo nome sia glorificato in Gesù Cristo il nostro unico salvatore Amen 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 Grazie a tutti